Dopo le dimissioni rassegnate per motivi personali dal primario del pronto soccorso di Cosenza Pietro Scrivano che dal 2022 dirigeva il Dipartimento di Emergenza, numerose le reazioni, i commenti e le preoccupazioni. Cosa accadrà adesso? Questa è la domanda più frequente che giriamo al direttore sanitario Francesco Zinno che ha assunto ad interim la gestione dell'importante unità operativa. Dottor Scrivano ha dato le dimissioni d'altro canto per esigenze personali e quindi non sindacabili. Sicuramente è una perdita importante. Tuttavia, rientrando il dottor Scrivano nella sua precedente occupazione che è quella di dirigente medico di unità operativa, il pronto soccorso in questo momento comunque non ha vacazio di gestione. Per ovvi motivi ho assunto per qualche giorno l'interim di questa unità operativa che sarà a brevissimo affidata a professionisti interni nell'attesa di valutazioni future e di sostituzioni definitive. Certo, il pronto soccorso resta sempre un punto nevralgico dal quale provengono le cospicue, ripetute e allarmanti rimostranze degli utenti. Luogo centrale per l'erogazione dei servizi sanitari dell'annunziata costretta a sobbarcarsi il preso di un'intera provincia che gravita attorno al noso come Ubruzio. Oltre 120 gli accessi quotidiani che attualmente sono gestiti grazie anche all'apporto di 22 medici dei quali ben 14 sono professionisti provenienti da Cuba. Adesso si dovrà procedere all'individuazione del nuovo primario. In questi giorni, al di là del mio interim formale, c'è un sostituto individuato all'epoca dal direttore dottore Schivano. Adesso è troppo presto per sapere come agiremo, se agiremo con un nuovo bando, se attingeremo a banti esistenti o quant'altro. Sicuramente il pronto soccorso è un'entità talmente importante che deve avere una continuità di gestione. A rendere ancora più difficile la situazione, aumentando le criticità quotidiane, le gravi carenze strutturali. In questo momento ci sono dei lavori di ampliamento del pronto soccorso e di adeguamento che dovrebbero terminare a breve, entro qualche mese. Le difficoltà sono rese più marcate dagli spazi angusti. È chiaro che questo sacrificio che già il paziente di suo fa è richiesto perché il pronto soccorso andrà adattato alle vigenti norme, ma anche alla buona accoglienza del paziente. Quindi il nuovo pronto soccorso sarà tre volte l'attuale spazio. I cittadini, gli utenti vorrebbero una volta per tutte che il pronto soccorso dell'annunziata si trasformasse in un lasso di tempo breve, in un luogo dove alla richiesta di sanità si rispondesse in maniera celere, esaustiva e confortante. Non è più possibile perpetuare nel tempo situazioni di difficoltà, ore di attesa, in spazi angusti e penalizzanti per i pazienti.